Daniele, rimanere fedeli in un mondo ostile. Questo è il primo manuale di studio che fa parte di una collana, e cioè classe biblica TIM, che è una nuova serie che serve allo studio biblico personale e a quello dei piccoli gruppi. L'obiettivo di ogni studio è quello non soltanto di scavare in profondità nella parola di Dio, ma è altresì quello di farci riflettere, ma soprattutto quello di applicare le verità che dalla parola di Dio, da questi studi, dalle domande che vengono poste, riusciamo a trarre per viverla nella nostra realtà quotidiana. Vi diciamo subito che le lezioni non vengono affrontate in maniera frontale, diretta, ma viene stimolato il dialogo, vengono poste delle domande per agevolare una discussione nel gruppo. E questo è importante perché siamo spinti a riflettere, a porci dinanzi a dei quesiti che sono più che mai attuali nella nostra vita di oggi, per vivere un cristianesimo secondo l'Evangelo che possa impattare nella società intorno a noi. Leggete questo libro, fatelo vostro, applicatelo nella vostra vita, ma soprattutto vivete le realtà della parola di Dio.